Il Movimento 5 Stelle chiude al confronto sulla legge elettorale e si concentra su banche e vitalizi. Cade Mazzola. Marcano la distanza dagli altri partiti 5 Stelle concentrati sulle prossime scadenze elettorali. A Palazzo Madama protestano in Commissione Finanze contro l'approvazione del decreto sulle banche venete e rilanciano la battaglia contro i vitalizi con questa lettera alla Presidente della Camera Boldrini per accelerare l'iter parlamentare della loro proposta via blog Grillo. Boccia la riforma sui parchi nazionali pronto a scendere in campo in Sicilia in vista del voto regionale a novembre. Poi c'è il capitolo candidature, il dossier in mano ai vertici, al lavoro per trovare il criterio che eviti l'ingresso in Parlamento di eventuali dissidenti come è stato nel 2013. Ma molto dipenderà da quale sarà la legge elettorale, ragionano nel partito, che chiude a nuovi tavoli i confronti con i Dem. L'occasione c'è stata e il PD l'ha bruciata, dicono, a settembre la scelta del candidato Premier. Cosa risponde chi...